8 gennaio 2018 Carlo Bertini, Ilario Lombardo ansa copyright diritti d'autore 2018 8 gennaio 2018 Fabio Poletti ansa copyright diritti d'autore 2018 8 gennaio 2018 Omedeo Lamattina copyright diritti d'autore 7 gennaio 2018 ansa copyright diritti d'autore 2018 7 gennaio 2018 LAPR e SS e copyright diritti d'autore 2018 7 gennaio 2018 ansa copyright diritti d'autore 2018 7 gennaio 2018 Omedeo Lamattina ansa copyright diritti d'autore 2018 7 gennaio 2018 Jacopo Iacoboni ansa copyright diritti d'autore 2018 7 gennaio 2018 Omedeo Lamattina LPRESS e copyright diritti d'autore 2018 7 gennaio 2018 Ilario Lombardo copyright diritti d'autore 2018